Dal vivo, live, again, quarantine unboxing più question time se non mi scassu cazzo subito Quindi, parto così, spumeggiantissimo Allora, volevo fare subito delle precisazioni Ieri mi hanno riferito che c'è stato un mega meeting di appassionati di scarpe C'è stata una domanda se qualcuno avesse dovuto scegliere con che skateshop, nike, isb avesse dovuto collaborare E' stato scelto a criminal g a furor di popolo Buonasera a tutti Questo io non lo sapevo perché non stavo partecipando, perché stavo lavorando, fortunatamente Però, grazie a tutti, molto gentili, sempre una cosa molto gradita Saluto Alfredo Gratton, adesso che vedo che si è collegato in time, in time Ormai è quasi un nuovo format per me, Aperia Criminal G Perché spero che tutti voi abbiate del bere Io ho la birretta portata da casa E la scarpetta Ciao Giovanni Sono carico a palettoni come sempre Ci abbiamo questa mezz'oretta di aperitivo a criminal g Sto già schiumando perché la birra ha fatto un po' questa roba Benissimo Ah no, mi dicono non mani in bocca perché c'è covid Bene Se me le fai vincere ti coccolo Ma io merito coccole sempre e comunque Comunque Non le posso regalare Sappiatelo Però le possiamo vedere insieme per la prima volta Perché io le ho ricevute oggi Non... Avete sbagliato a fare la raffle Qualquest è un'altra chiacchiera incredibile Non si parla mai di massimi sistemi Si parla solo di iscriversi una volta secca One shot One try First try Che raga come ho fatto a sbagliare? Porca puttana Non faccio mica domande sulla matematica Boh Comunque Passino due volte poi Vabbè passino due volte Però figa Avevi so gente che aveva fatto uno stuolo di iscrizioni Freghete Anyway Vado avanti dritto filato Io non l'avevo ancora vista perché volevo che ci fosse proprio la real life La street creed La puzza di strada Merda Mi piacciono tantissimo anche queste C'è Ada che fa una faccia Minchia un'altra scarpa in casa A subito vedere se sono dritte Perché a volte il mio numero essendo piccolo Minchia no sono perfette quasi Quasi Ma tanto diventerebbero un cesso ai miei piedi Yeah Minchia il flavor Minchia Qualcuno ha detto che è una colorazione aristocratica Elegante Pettinata cazzo Si Subito Subito Screenshot Benissimo Bene Momento screenshot l'ho fatto Quindi possiamo andare avanti Bicchia Ah tutankamon Screenshot tutankamon Lo sguardo Lo sguardo paga Allora Niente Sono gasato Perché Non l'avevo vista questa scarpa Non l'avevo guardata Ho solo preso lo scatolone L'ho spacchettato Non l'ho presa una Casualmente è il mio numero Per non sbagliare Ficcata in macchina E via Portata in negozio La pelle è Fottutamente morbida Morbida Avevo il terrore che fossero come le Napoli Con quella pelle lì Che Puzzola se bella In effetti Ci stanno forte La scarpa è veramente figa Non è una novità In assoluto Perché Qualcuna Ne è passata Dal negozio Però si Super Classico Oggi Riprende la colorazione Anche della Air Force Uno Weat Moka Che In effetti Non ho mai visto dal vivo Perché La Air Force Uno Non è proprio La mia Silhouette Prefe C'è stato un momento in cui ero gasato Appena visto Prima puntata di Sonso of Anarchy Ho capito che poteva essere Una roba da gangster Ma poi Mi è passata subito Comunque La pelle È veramente Pazzesca Vorrei farla vedere Bene Anche se C'erano altre nel 2002 Così Gang Ma che bella è Ma poi per me È veramente Una colorazione Super Skateboard Perché Lo storytelling Interessante Di Stasse E che Quando ero molto piccolo Vedi un'america Super Ciccissima Che aveva una linguetta Più o meno di questa dimensione Come il mio cranio Caspita E aveva questa colorazione E poi anche questa Mixata di colori È veramente finita Su tante scarpe Skate Primi 2000 Mi piace di brutto Avevo anche Un'america Super Grossa Così Che la prima volta Che la misi Andai a cena fuori E ci verassai Sopra L'olio Delle bistecchine Di cavallo Una roba trash È rimasta macchiata Da subito Forse è stata La prima scarpa Che ho tenuto Dal negozio Forse È durata Meno Di un fine Settimana Cazzo Non mi fanno Impazzire Come altro Uscite Di quest'anno Ma piuttosto Di vincere Almeno Queste Le voglio Bene Mi sembra Un commento Interessante Non mi piace Ma piuttosto che niente Meglio piuttosto Si dice Vabbè ci sta Come si chiama Allora diciamo che Dopo lo leggo Diciamo che Comunque Si Piuttosto che niente Meglio piuttosto Però questa è una scarpa Perfetta Per tutta il D Cioè Sempre Buonasera Perfetta per sempre E comunque A me piace molto Poi L'altro giorno Sempre Ho sentito una chiacchiera Interessante Ed era Scusate Belle Per schietare Un po' Delicatine Sincero Io non lo so Cioè Egnuca È costruita Chi ci schietta Ci schietta Veramente A lungo tempo E comunque Per schietare Un po' Delicatina Cioè Bella per schietare Un po' Delicatina Questa Questa Che tra l'altro È una colorazione Che matcha Sì È un po' Delicatina Perché non ci ha attaccato Un belino Praticamente Non ci manca più La punta di gomma Però questa Se ci pensiamo Poi vabbè C'è il trick segreto Di chi schietta E mettere L'attack Sulle cuciturine Così Le rinforza Questa farà Crollare Il fatturato Di qualsiasi Negocio skate Però Lo dico Perché sono Estremamente Onesto Sono solo Per schietare Le wet Ma infatti Ma questo per lame Cazzo Ma sai che goduri Andarci a schietare Minchia Ciao Ti direi Nice Shoes Shit Yeah Benissimo Ice ice baby Come diceva Vanilla ice Comunque Siamo a 8 minuti Non abbiamo ancora detto Niente Assolutamente Ma questa cosa Mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Se avete delle domande Passiamo subito Alle domande Perché comunque Di questa Non so che dire No vabbè Potrei ancora Dirvi che è questo Il cosino morbidino C'è proprio Perché la scarpa Nasce per schietare Ad un certo punto Della storia di Dunk Alleggerirono La suola E gli misero Il cosino morbidino Per aumentare L'effetto Impact absorber Ok Ho un inglese Fortissimo oggi Quindi Se volete fare Anche domande In lingua straniera Ve ne sono arrivate Tante Ci tengo A vincerle Frate Sai che Potrei dirlo Ma poi Dovrei uccidere Tutti quelli Presenti E quindi È un po' troppo Vincolante Presenti Nel senso Io e Ada Dovremo ucciderci Eviterei Di chiudere Vabbè che l'anno È stato un po' pessimo Per chiuderlo Con la morte Me lo evito ancora Però 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 Se vede La bottiglia della vino La fai macciare Con le scarpe A ogni unboxing Madonna Ma l'altra volta Era diversa Mica l'altra volta C'era la birra verde Con la scarpa Che c'era Verde Ma Madonna Lo vado a rivedere Perché se fosse così Impazzirei Cazzo Cioè Chiuderei la mia carriera Da youtuber così In bellezza Perché è pazzesco Comunque Secondo me è incredibile Sta scarpa A me piace molto Mi ricordo un po' La Napoli E Per via Di questi materiali Così Però è Super easy Super giusta Super Più o meno Quante Dunk Stocchi Per Le raffle Ma questa è la domanda Che Appena detto Che non si può mai Rispondere Per cui Non risponderò Però vi dico Che è variabile Alcune sono di più Altre sono di meno Questo ve lo dico Sinceramente Quando sono limitate Che sono proprio poche Vuol dire Vuol dire che sono proprio poche Sti cazzi Altrimenti Dovrebbe uccidere tutti Bravo Avete rifatto il form Perché l'ho fatta ieri sera Rispetto Bravo Sì Allora Ieri Ho Ho preparato Il modulo Della raffle Mi ero dimenticato Di mettere la domanda Segreta Che piace sempre a tutti E Poi stamattina L'ho aggiunta Quelli che hanno compilato La raffle Pre Domanda Hanno il diritto Di fare Un secondo Accesso Ok Se è un cleaver Arriveranno Una size per negozio Non posso Ma Sapete che poi Dovrei uccidere Lo sapevate Sono avanzate Trevi Scott No Iniziano le domande Intelligenti Forte Comunque La risposta Giusta è Delfino Segnatelo Oltretutto A proposito Io so Che quando c'è la domanda Qualcuno Suggerisce agli altri Malefici Ma ognuno Se la tiene per sé Così ha più possibilità Di vincere O no Comunque Io lo so Che a scuola Chi non faceva copiare Era un bastardo Però So che I tempi cambiano E quindi Bom La risposta giusta Comunque è vero È Delfino Tipico animale Che sta sul lago Maggiore Delfino Segnatevelo Comunque Quando c'era lockdown E la terra Si è la natura Si sono ripresi I loro spazi Anche Delfini Si sono stati Si sono stati visti Va bene Comunque Niente Volevo dire qualcosa Di intelligente Ma forse No Ma scusa Ho fatto la raffa Per domanda Devo rifarla Ma no 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 Fa niente Fa niente Fa niente Fa niente Sei mai stato Al parco di Desenzano Non sono Ma non mi sono mai spinto Fino al parco di Desenzano No Però È stato abbastanza Legend Il parco di Desenzano E quindi Bravi Bravi a Desenzano Bravi tutti Mi piace come idea Vedo se qualcuno Mi ha chiesto qualcosa Di Ne 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 Ah Secondo te Per cui è questo Miglioramento Dice SB L'ho letto male Lo ridico Secondo te Perché è questo Miglioramento Dei materiali A parità di prezzo Per Dunk E le SB Perché praticamente La linea SB Cioè È una perla Capito per Nike È come se fosse Una cosa a parte Loro ci tengono Particolarmente Ed è per questo Che le produzioni Non sono mai Elevate Capito In più Questo miglioramento Di qualità È stato Veramente Incredibile Perché comunque In passato Poteva capitare Magari Qualche difettino Qualche Io ad esempio Ho La Orange Box E Lievemente dura Come una pietra È Molto bello Il concetto Perché Orange Box Quindi La prima scatola Di Nike Però Qualità Nel pellame Non al top Mentre invece Le ultime Che siano GR Che siano Sono tutte Molto belle E sono contento Che il prezzo Sia rimasto Comunque Invariato Perché alla fine È giusto Così Purtroppo Sono sempre poche Rispetto alla richiesta Però è anche un po' Il bello Parco d'ora No Perché quando stavo A Torino Non c'era ancora Il parco d'ora Tutto quello che hanno fatto Dopo Cioè tutto quello che hanno fatto L'hanno fatto Il parco d'ora Recentemente Ultimamente Ci siamo spostati Da qui Veramente poco Ed era sempre Abbastanza in zona Perché poi Con il lavoro Anche quando andiamo A filmare Comunque Tendenzialmente Per andare a filmare Lontano O Più O meno Delegato L'ultima volta Che ho filmato Lontano Forse è stato In Svizzera Caspita Quando abbiamo fatto Il tour in Svizzera E poi In realtà Tutto abbastanza In zona Massimo Nei dintorni Di Milano Da qua Perché poi noi Sapete Da un grande potere Derivano Grandi responsabilità E quindi La domenica Pome Di solito Se mi alzo Presto Vado a filmare Lo skateboarding E poi Buonasera E Yes Chi eri Io comunque Sono originario Della provincia Di Torino Sud Ciao E quindi Sti cazzi Con che stavo dicendo Le Weat Avevano il box Ruple Si Perché Weat EGR Stamattina qualcuno Diceva Ah grande Crimina G Mi saluta Come fa con la corona Air King Minchia Che gaso Cioè Sono contento Di essere salutato Da me stesso In uno sdoppiamento Di personalità Incredibile Comunque Arrivano così Perché sono GR Ma dicevamo A volte Le GR Sono persino Più Limited Di Quickstrike Ok Se c'è Un'altra domanda Sì È vero Cioè nel senso Loro hanno investito Per avere un prodotto Di qualità Migliore Senza volersi rifare Su Gli appassionati O comunque Siccome una scarpa Che deve essere usata Per fare lo skateboard Il prezzo Rimane sempre Giusto Giusto Perché poi cazzo Se ci pensi Una scarpa così 100 euro Per scrittare È regolare Cioè c'è stata L'inflazione L'abbiamo passata Di ogni C'è stata pure La pandemia Per non farsi mancare Un bel cazzo Di niente Per cui Bevi la goccia Se hai coraggio Ma è pochissima Non so se ho coraggio Però Lo faccio Adesso ho fatto vedere Perché sono un vero uomo E la spago Anche qua dentro Cazzo Niente Giusto Stai a fare un salire Voglio di averle Per andare a comprare il sito No 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 Nostro Kicks Santa pazienza Magari che cazzo Le vinci Aspetta un attimo Chiamate la polizia Dite di aspettare Che esca dal negozio Eh sì Perché ho bevuto ben Tanto cose di birra Farò guidare Ada Che significa gr Ma infatti Sono tutti i termini Del cazzo Allora È Una scarpa Che esce In collezione General release Vuol dire che Potrebbe essere Potrebbe essere Questa Capito General release Vuol dire che tu Vai lì Fai il campionario Vai lì Vai lì E lasciate che io vi dica così Tu vai lì Fai il campionario Sempre stando lì E scegli Quante ne vuoi prendere E o Quante ne puoi prendere Ok Quindi General release È così Troppe informazioni Diventa noioso Vabbè E qui Sarai che invece Sono quelle che escono Così a botta Sorpresa Bam Vuoi Esce questa scarpa La vogliono tutti Ti va bene Sì va bene Avete ricevuto Molte paia Di queste Dunk Un milione Tutta la produzione cinese Mi dicono Di dire un milione Non so Non so se è vero Però E GM invece Giovani marmotte E in alcuni casi Anche giovani Mignotte Se siamo proprio volgari Tanto ho messo che il video Non è vero per i bambini Alcolista Beh sì ragazzi La Peroni è Cioè È l'anticamera Dell'alcolismo Dunk Dacci la tua Top 3 Dunk Di quest'anno Minchia Che peso Secondo me Ma lo dico sempre Ah Tra l'altro C'è un blog Che si chiama Surfablog Che mi ha chiesto Insieme a un sacco Di influencer Che scarpa Era la mia Prefe Di quest'anno Io gli ho detto Se ti va bene L'avanza Criminal G Per me È la best Ma lui gli ha detto Che voleva sapere Una scarpa Che era uscita Anche un po' In altri negozi Bravo Andrea Che hai visto Ho detto La strange love Perché comunque La strange love Oltretutto A parte il fatto che Minchia guardate la metti Come avere una copertina Ai piedi E quindi Sti cazzi È rosa Mi piace molto La scarpa rosa E me l'hanno chiesta In tantissimi Cioè quando esce La strange love Dall'armadio Viene fuori Un Porcaio Comunque Lo schema di colori È identico Alle Lewis Marnell Merda È vero E io Secondo me So chi è Lewis Marnell Riposi in pace Lo sai anche tu Era mid E poi mi sa Che lui dopo Poco è mancato Cazzo No la mano in bocca Che c'è il covid Cazzo Il germe Ma io mi sono Disinfettato prima Comunque Totalmente Quindi 2003 Le vedi e dici Inchia Belle belle Allora comunque Non riesco più San Dunk Non solo lui Impazzirebbe Vabbè Allora comunque Cazzo stavo dicendo Allora Strange Love Una delle sicuramente Più calde Poi sono appassionato Di Sean Cleaver Io volevo tantissimo La Disposable Non mi arrivò Nel periodo In cui Usci E quindi Molto Molto Male Piuttosto che Comprarla A Resel Mi taglio Il pistolino E me lo pianto In un occhio E quindi No Disposable Solo Libri Le Sean Cleaver Che usciranno Sempre sul tema Strange Love Sono veramente Poesia Allo stato Brado Veramente E Non dovrei dire L'X ma Già che siamo qui C'ho ancora dieci minuti Prima di andare a dormire Direttamente Alle otto e mezza Bellissime Cioè Cose d'oro Tutto oro Nanetti dentro Teo Dalla Terrete La Sean Cleaver L'altro giorno Uno Mi ha scritto Tipo Ma non è giusto Che tu ti tieni le scarpe Perché potresti farne vincere di più Ma io ho solo due piedi Eh raga Cioè non è che ne tengo Per piedi Mani Orecchie Ne tengo Un stock Cazzo E poi le pago tutte Ma poi la risposta è giusta eh Tanta fortuna Sti grazie Ah no Vabbè Tanta fortuna pensavo Extra Lace Whales Questa qui Banging Che size hai Il 7 Di solito va a me O delle ragazze E quindi E poi sì Io le pago tutte Cazzo Ma io l'ho qua dentro Non so se sapete Come funzionano i negozi Ma io pago tutto Per cui Anche le bollette L'affitto E tutte cose Quindi Per le prossime Saint Cleaver Vengo a piedi Negozi Col pupazzo Di Olaf In braccio E Chissà se per le prossime Io ho il piede Come quello di Maradona Ragazzi Pensateci Ma Pelato Eh Qualcuno Stava che nessuno L'ha ancora detto Patato pelato O cose così Mi mancava un po' Sta cosa Perché mi è venuto Ma Tra l'altro L'altro giorno Mi sono svegliato Visto che ero pelato Per alcuni Fa ancora scalpore Sta cosa A me fa sempre ridere Cazzo Pelato è vivo Anche Allora potremmo Allora dunque Skateboarding E review Se vuoi vincere Una raffle Fai prima Ad aprire Lo skate shop Sì Probabilmente Sì Non è detto Che ti diano Il prodotto Quindi Yes Scalpore Scalpore Benissimo Ah ma sei imparato Per davvero No cazzo È tutta una finzione Ho fatto La cosa Laser in testa Per non avere i capelli Yes Frankie Tanti cuori L'altro giorno Ho visto Su facebook Ho ripostato Uno che faceva Il gesto Così del cuore Con scritto Mezzo succa Era bellissimo Poi Stavo dicendo Review E skateboarding Abbiamo fatto Una prova Comparata Bella Fre Di due scarpe Vans Gli ultimi due Pro model Fatte con lo skateboard Nel senso Skatata Filmata Provata Testata Usurata È bellissimo È bom Ma dopo quanto Ho avuto la licenza Per le dà anche in negozio Ma non è la licenza Di uccidere Come 007 Cazzo Prossima review Il piedino Ma allora La review Diciamo Skatata Non in dicembre Non in dicembre Ragazzi La review Skatata In dicembre È un disastro Adesso sto montando La review Cosa c'è per cena Porca Troia C'è già una fame A pericriminal G Santa pazienza Caffeuccio Minchia Che session Ragazzi Non capisco più Un cazzo Troppi flash Proprio Allora Review Skatata Non in dicembre Perché No Troppo Troppo Tutto troppo Poi Dunk A criminal G Benissimo Speriamoci Continuiamo a sperare La licenza Di uccidere Ve l'ho detto Non lo sapevi E non lo so Che cosa ci si riferisce Un pesce Un pesce Al posto Dello svuscio Però l'ho già visto La ferragna Ho postato La polo rossa Per il cane Che le ho spedito Ma stai scherzando Ah già che spedisci Quelle cose lì Joe Quante dank Hai per Le esisi in stock Un milione Tutte quelle cinesi All'incirca un milione Direi E comunque Se dicessi la verità Poi dovrei uccidere Tutti quelli che sentono E quindi Non lo potrei mai dire Quindi Amen Direi che Ma siccome 25 minuti Sono sufficienti Ha fatto ridere Però questo Evidentemente Direi che La scarpa È questa La raffle Is on fire Ok Aspettatevi Una review Dettagliatissima Dove ci saranno Dei close up Pazzeschi Per far vedere Che è il vello Non è solo Suede O quello che l'è È di più Aspettatevi Che faremo Anche Sta per uscire La review Della Invert Celtics Avrò un attimo Di dubbio Su che l'è La monterò Forse stasera Più guardo Questa scarpa Più mi viene Voglio di cioccolato Sì Gelato al cioccolato Come cantava Malgioglio Stasera Grande fratello La prossima Domanda Raffle Sean Cleaver Potrebbe essere Su grande fratello Potrebbe essere Che tutti cominciate A guardarlo Che a me fa cagare E vi faccio Subire questa merda Potrebbe anche essere Che sia uno scherzone Non vi chiederò mai niente Per chi non lo guardo Vedremo Vi lascio così Ci sarà sicuramente Un tot di puntate Da vedere Prima della Raffle Pensateci Cazzo Questa è la cosa Più sadica Che mi è venuta in mente Si sono spente Anche le luci Con Ester egg Per le prossime Raffle Ma cosa vuol dire Ester egg Per le prossime Raffle Guarda A più pazienza SB Da anche Nelle memory Ci sono le blazer Buon appetito Pipotes Non ho ricevuto Solo questo Ho preferito Puntare su altri prodotti Però Raga Questa È Di pelle Umana Tutte Le scarpe Iso Quindi In store Only Sono di Una Maledetta Pelle Umana E dentro Hanno tutte scritto Minchia come si mette a fuoco bene Support your local Comunque Quindi Ricordatevi Pelle Di Reseller Pelle Di Apollo Pelle Ah Ester egg È tipo Una specie Di segreto Nascosto Ma non vuol dire Uovo di Pasqua Ma si chiama biscotto Ma alcuni La chiamano biscotto Altri La chiamano Inchiappettata Secondo me In italiano E in culet Funziona sempre E si capisce Ester egg Sides Con più entrate Nelle raffle Questo Sincero Va periodi C'è stato il periodo Che tutti Avevano il nove Poi tutti L'undici Poi tutti Il dieci Poi Eh C'è a dire Che il sette Che prendo io Di solito Non è proprio Il top Senso di colpo No Senso Senso di colpo No Ma in realtà No Comunque Nei videogame Nel gioco segreto Del gioco Ma ragazzi Ma io Ah ma io Ho sbagliato tutto Dovevo fare lo youtuber Dei videogiochi Cazzo È tipo Di citazione Si trova Nei film O nei videogiochi Ma io È la traccia fantasma È la traccia fantasma Tipo Ma è tipo La traccia fantasma Nei cd Di una volta Ah è tipo Quella roba Che devi sentire Al contrario Scusate Ma alla fine La risposta Alla domanda Qual è Eh no Scusate Ma alla fine La risposta Alla domanda Qual è Ah ma la domanda Della raffle Eh ma sti cazzi Ma la raffle È ancora aperta Perché non l'ho fatta Flash Perché tanto Non ci sarei potuto Stare dietro Non avevo tempo Quindi La domanda Non è Chi è La domanda è Dove Dove Sono Vito Ti ricordi di me Ma Vito Sì che mi ricordo La domanda è Perché Quello Mi hai sbloccato Sul pubblico Ora mi sblocchi Su Gioacarminal G No No È giusto Che io mantenga La mia privacy E lo status Di persona Che ogni tanto Se la mena Ma solo ogni tanto Ma non lo fai Lo streamer Doi Twitch Allora io Ho installato Sul telefono Twitch Tipo un anno fa Non ho capito Che cazzo fosse Forse l'ho tolto Facendo comunque Un profilo nel dubbio Perché poi Quando sento che c'è Un nuovo social network Lo voglio provare subito Di solito Lo capisco poi Dopo due anni Devo spiegarci Nei commenti Mi scrive Che cos'è Twitch E si spiega Come si usa Perché ho visto Che lo usa Fedez E ogni tanto Partono dei commenti A voce Ma c'è anche Paolo Cazzo Ma in due Ma 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 vabbè Ma vabbè Due dispositivi separati Per vedere Sta cagata Ma io Io comunque O un giorno Sarò famoso O un giorno Sarò ricoverato Il problema Che secondo me È la seconda Cioè Quasi Certamente Però 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 Se qualcuno Nei commenti Mi spiega Perché usare Twitch E Se posso farci Dei soldi No perché C'è stato un periodo Che mi dicevano Guarda che Twitch Lo usano Sui videogiochi Ti metti lì Giochi in diretta Ore 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 Twitch puoi donare E ricevere Cioè Perché YouTube Che restrizioni c'ha Cioè Twitch Ti manda La gente Ti manda i soldi Ma no Ma noi no Ma no Ma io scherzavo Però Se fosse una roba Che Ah Perché su YouTube Non posso Ah Ho capito Vabbè Beh Non sapevo Di tutte queste donazioni Però comunque Allora Magari un giorno Proverò Twitch Non so Quanta gente Lo usa Però Però Stiamo Cercando Allora Rifaggio lo spoiler Stiamo cercando Di organizzare Vabbè Contenuto porno Comunque non lo farai Cioè Guardatemi Che tipo sono Puoi smadonnare Sì infatti ho visto Che la gente Sbrocca Comunque Comunque Ti insegno io Ma io ti ringrazio Io poi Cioè Io ci provo Anche a fare Sto Twitch Magari Magari poi Interessante Magari mi diverto Ancora di più Ma lo spoiler Vero Era Che Ho vinto Due Wets Su sneakers Ma allora Poi fate le pezze A me Che sembra che Ce ne abbia sempre Troppo poche Cazzo Ah si anche Poi ho creato Perdo sempre Non ho vinto mai Allora Io su Twitch Sì L'altro Megalix Sarà Giorgio Farà Podcast Ma sarà È un anno Che la devo fare E questa roba Però poi C'è sempre il covid Caspita Faremo Una sorta Di podcast Ma l'idea Sta tramutando In podcast In diretta Con la gente Che può commentare E interagire Quindi C'è il rischio Che venga una roba Fighissima O una porcata Però Però Io sono fiducioso E secondo me Può essere Sempre divertente L'altra cosa Che volevo dire L'ho dimenticata Twitch Twitch Imparerò Ad usarlo Solo per voi Considerazione Su queste Weat Secondo me Sono Pazzesche Ma veramente Non lo dico Per farvi sbroccare Però Bellissime E poi Aristocratiche Con cosa le meci Mai Io le mecio Mai Guardatemi Sono Con cosa le mecio Me Inchia Veramente Ma veramente Panta Momento Ah No vabbè Ma è perfetta Ma io non lo sapevo Neanche Ma io non lo sapevo Neanche Ma io non lo sapevo Neanche Le mecierei con questo Super burrosi Invernali Yes Hanno un alter ego Bravo Bravo Quel mix tra Aristocrazia E Timberland Comunque È uno di questi Colori Carhart Ricorda un po' La scarpa De Carhart Volevo dire qualcos'altro Ma mi sono bloccato così Come un ictus Praticamente Va bene Direi che Comunque Le scarpe sono belle Aspettate di vedere Una review Super calda Super hot Interessantissimi Con anche Vocali sbagliate Quindi Vabbè Sarà quella birra Che ho bevuto la goccia Sarà quella goccia di birra Sarà quella goccia di birra Che mi è caduta Nel gargarozzo Va bene E Novità sulle prossime dunk Veramente E si dovrà rivedere tutto Ma benissimo È vero L'ho detto prima Ciao Quindi dopo Ti devi ribeccare Questi 34 minuti Di porcate Dove in mezzo Si parla Di qualche dunk Che uscirà Quindi Farò uno shock Drop di dunk Chi sta Chi sta Vabbè raga Vado a mangiare pure io Dai Ci sta Si è fatta una certa 20 e 10 Ringrazio tutti quelli Che l'avete seguito Scrivetemi Nei Grande Riguarda tutto Scrivetemi sotto Come su Twitch E Se Va Utilizzato veramente O posso insistere Su YouTube Che però Mi viene così comodo Cazzo Vabbè Comunque E si conclude così Così Di colpo Di punto in bianco Mi passa la voglia E finisce così Il disturbo Dell'attenzione Che prende il sovravvento E vado E vado Fa YouTube Non ne vale la pena Ma infatti Ma infatti Ma adesso che ho Un sacco di iscritti Posso dire tutte queste cagate Ma poi su qui Mi segue anche mia sorella Per cui Ma tanto Ma tanto non devo far vedere Andate a vedere Grande fratello Che magari vi spara Una domanda Arognosa Sul grande fratello Pur che a me Fa schifo Pagherò qualcuno Che guardi Il grande fratello Per me Per fare una domanda Orribile Sul grande fratello No Dank SB Yes Proprio nel momento In cui me ne stavo andando No Che chiusura Devo andare Raga Devo andare A fare una delivery E Paolo Brosio Con le Dank SB E su questo E su questo Me ne vado Ma voglio solo salutare Nike SB Dunk History Perché è un profilo Incredibile E a me Piace Moltissimo Sempre vista Indifferita E Minchia Anche se no Che ti perdi Grazie per il supporto Comunque Ciao raga Vado a vedere Mal gioio skater Vi saluto Ciao a tutti Ciao 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 Una fuga Ciao